salve oggi leggerò un brevissimo racconto da una raccolta postuma di mattia torre uscita per mondatori nel 2021 dal titolo a questo poi ci pensiamo un piccolissimo racconto dal titolo condominio il cittadino è mediamente in guerra i problemi sul lavoro quando c'è le cartelle sattoriali il traffico le spese infinite e a fine giornata assimilate inglobate tutte queste nevrosi il cittadino torna nel luogo di maggior tensione che esista nell'universo il condominio il suo stesso condominio perché anche se non sembra il condominio è la somma di tutte le nevrosi dei suoi singoli abitanti e anche di più perché il tutto è più della somma delle parti per cui il condominio è una gigantesca multiforme nevrosi un mostro di energia negativa un fenomeno cioè invisibile a occhio nudo ma più potente e oscuro di un buco nero e infatti è in agenda alla nasa o ricordiamoci che subito dopo il buco nero abbiamo i condomini italiani è il condominio è il microcosmo conflittuale per autonomasia in un condominio tutti sono potenziali nemici è un labirinto di conflitti ancestrali di reciproci sospetti e pettegolezzi un fuoco incrociato di malaugurio e anatemi dove sorgono spontanee alleanze tra gummisti e docenti di filosofia teoretica in opposizione a fiscalisti e odontoiatri odio pettegolezzi illazioni pregiudizi formano un mondo in cui gli altri sono tutti stereotipi si è comprato la macchina nuova è quella gira coi tacchi alti ha capito alludendo di volta in volta chissà che cosa ed è una guerra in cui tutti hanno ragione perché ognuno ha la propria esclusiva personale sacrosanta ragione quello che cucina l'indiano e all'altro non piace quella che sente i bigis dalla mattina quell'altra che fa troppo silenzio e preoccupa tutti perché non arriva nessun rumore è la signora rossi del primo piano nel suo cantuccio che sogna di prendere ammazzate sulle ginocchia tutti quelli che scendono dalle scale così solo perché le dà fastidio l'idea che prima o poi lo farà e infatti nel cuore della notte talvolta nel sonno urla lo farò il condominio porta alla pazzia cose di cui non ti fregherebbe nulla diventano cruciali per cui non l'avresti mai detto ma oggi sei pronta a batterti e a morire per un pezzo di androne o di cortile o per qualche millesimo di una cantina il 42 per cento delle cause civili è relativo a questioni condominiali liti urla botte feriti talvolta più raramente morti e stiamo parlando di persone che nel ventunesimo secolo in tempo di pace devono solo convivere in uno stabile ma ecco il giorno della riunione condominiale il sogno di tutti i condomini sarebbe di arrivare in assetto militare per poter sganciare una bomba a mano al momento opportuno e questo già da una vaga idea del clima che si preannuncia in assemblea l'opacità assoluta dell'amministrazione i regolamenti condominali barocchi e contraddittori i capricci insensati degli uni e degli altri e soprattutto quella sensazione che ogni stanza presentata sia in realtà frutto di problemi personali del condomino tutto questo fa salire la tensione al punto che dalla terza ora scattano l'insulto libero le minacce e i primi tafferugli col generale in pensione costretto a dividere la vedova del quinto piano dal commercialista abruzzese che oggi ha avuto la peggio gli esanguina il sopracciglio molti condomini estremati ormai delegano ci manderebbero il cane pur di non partecipare a quel rito collettivo fondato sull'odio ma il cane ha subdorato e da due giorni non si trova più dov'è pippo è sparito tutti sono però d'accordo è l'unico caso d'unanimità e infatti si tiene per ultimo per non lasciarsi in discordia sul rinvio dei lavori di abbellimento della facciata del palazzo e infatti te ne rendi conto facendo un giro nelle città quando la riunione finisce tutti tornano a casa distrutti qualcuno l'indomani non andrà al lavoro per riprendersi il commercialista abruzzese è al pronto soccorso con i punti in faccia e invece quando poi per miracolo in questo paese impareremo a convivere in armonia con una condivisa idea di bene comune e non vivendo più in lotta gli uni contro gli altri sospettosi e aggressivi ma anzi fonderemo la convivenza sul rispetto lo scambio la curiosità e l'empatia la prima differenza che si noterà sarà proprio l'atmosfera nel proprio condominio che si svuoterà di quelle oscure tensioni finalmente esprimirà pace e serenità tanto che pure alla nasa diranno vabbè ma chissà che mi aspettavo i condomini italiani pensavo peggio spero ti sia piaciuto